Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.05, mercoledì 28 febbraio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno, come state? Cosa fate? Quali sono i programmi per oggi? Fuori ha smesso di piovere al momento, quindi forse un po' di tregua quest'oggi dovrebbe esserci, ma in realtà dalle previsioni danno ancora pioggia, quindi non si sa bene. È giornata uggiosa, umida e non sicuramente calda, quindi dobbiamo tenercelo, ma ci sta, ci sta, insomma, a fine febbraio non è che volete aspettarvi chissà cosa. Comunque, noi siamo qui fino alle 9 per raccontarvi un po' di quello che succede nella nostra città, per raccontarvi un po' tutto quello che leggiamo dai giornali, ma soprattutto per raccontare quello che farete voi oggi, perché al 331-78-53555 potete scriverci in WhatsApp e quindi interagire con noi come fate tutte le mattine e io vi, ditelo anche agli amici, non so come dire, cioè vi sprono a farlo tutte le mattine così che possiate passare queste due ore in nostra compagnia o meglio, noi le possiamo passare in vostra compagnia, la vostra compagnia che è sempre preziosa, che tutti i giorni qui su Crystal Radio cerchiamo di premiare con un po' di musica e in queste due ore della mattina anche un po' di notizia sulla nostra città, Milano, che città, cosa ci sarebbe da dire? Tantissime cose, così tante che non ve ne dicono anche una, anzi facciamo una bella cosa, iniziamo con un po' di musica, pezzo fantastico, lui è Rino Gaetano con Gianna. Rino Gaetano con Gianna, dove vai, con che fai, ma che fai? È un po' la domanda che si sono posti durante tutta la settimana appena passata, lunedì è finita la Fashion Week ed effettivamente ci chiedevamo dove vai, cosa fai, ma con che diverge, è stato un po' così. Perché vi parlo della Fashion Week? Perché Giorgio Armani ha lanciato un appello ha detto che serve un giorno in più per le sfilate, fare moda a Milano è diventato difficilissimo. Sappiamo che Giorgio Armani è anche un'idea che ha avuto con la Camera della Moda di Milano è quella di mettere la sua sfilata l'ultimo giorno, cioè il lunedì 26 appunto. Perché? C'è un motivo in realtà interessante, perché quel giorno lì, che è l'ultimo giorno di Milano Fashion Week, è anche il primo giorno della Parigi Fashion Week. E quindi bisogna cercare di evitare che i buyers, quelli che poi fanno girare l'economia del mondo della moda, prendano e se ne vadano a Parigi. E allora cerchiamo di tenerli blindati qui. Marmani dice che è sempre più difficile comunque fare moda a Milano con questa settimana così corta. Dobbiamo allungarla. E la Camera della Moda dice che stiamo pensando di allungare il calendario. Quindi in teoria dalla prossima Fashion Week, non so se già quella che avverrà a fine 2024 oppure quelle del 2025, comunque si pensa di allungarle così che ci sia più spazio per tutti, più dilazionati, anche perché ricordiamo che c'erano tantissimi eventi tutti insieme ed è veramente complicato riuscire a seguirli tutti quanti. Noi abbiamo avuto anche chi è venuto qua a raccontarcelo, come Selin o come anche Andrea Kerchi che ci raccontava che deve girare, andare in giro, da una sfidata all'altra cercare di fare le foto ed è veramente complicato riuscire a stare dietro a un calendario così fitto di eventi. Ma ricordiamo che oltre a essere una settimana appunto fashion e trend dal punto di vista dei social e della comunicazione è comunque una settimana di economia, no? E quindi bisogna cercare poi di venderli questi vestiti che vediamo spilare sulle pasterelle e appunto i buyers bisogna cercare di inchiodarli, tenerli qui a fermi nella nostra città. Giorgio Armani appunto aveva già trovato questo escamotage del mettersi lui l'ultimo giorno così che non andassero oltre Alpe e lasciassero stare la moda sul spondo del naviglio ma adesso chiede ancora di più e chiede di più alla Camera della Moda. Impegniamoci per aggiungere un giorno in più, 24 ore in più praticamente, per la Fashion Week e appunto il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, ha risposto per la prossima stagione dovremmo riuscire ad allungare il calendario. Contenti? Siete felici? Dai, lo so che insomma a sto punto 24 ore più 24 ore in meno cosa cambia? Il delirio totale in cui Milano affonda in quei giorni non è poi di tanto così di più o di meno se ci aggiungiamo un giorno, no? Anzi, a sto punto magari riusciamo un po' a dilazionarlo ma no, anzi, non credo che si annacquerà, anzi, 24 ore in più sono almeno 30-40 sfilate in più che si aggiungeranno al calendario. Comunque, vabbè dai, ci stiamo riprendendo, stiamo riuscendo a riprenderci tutti a Parigi in questo momento appunto per la Parigi Fashion Week, Milano è più tranquilla, non lo so. Anzi, per capire se Milano è più tranquilla, abbiamo sempre il nostro collegamento con Luce Verde per capire appunto in che situazione si trova la nostra città, la nostra provincia, le nostre strade su cui molti di voi in questo momento stanno solcando e stanno ascoltando Crystal Radio e quindi per sapere la situazione del traffico in diretta in questo istante sulla nostra città ci colleghiamo appunto con Luce Verde che ci dà la situazione attuale. A te Luce Verde! San Giovanni, Raggi Gamma. Raggi Gamma, attenzione che anzi c'è la tempesta solare che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e quindi chissà se anche i Raggi Gamma, ho visto cose che voi umani, Raggi Gamma e comunque... Allora, 3317853555 è il nostro numero di Whatsapp, andiamo a leggere subito il primo Whatsapp che è arrivato. Buongiorno Cristallini e un saluto al buon Fabio, buongiorno a te. La pioggia di questi giorni ha reso le strade dissestate e ha lagato diverse zone di Milano. Ad esempio, ieri pomeriggio Piazza Napoli era impraticabile. Ebbene sì, la pioggia che si sta battendo è abbattuta in questi giorni sopra la città di Milano. Trapperti si stanno aggiornando le previsioni del tempo. Poco fa mi dava nuvoloso, adesso mi dà pioggia per oggi, pomeriggio. Quindi andiamo avanti così. Hanno dato un po' di disagi e appunto diverse zone allagate. Sì, però ricordate, insomma, ormai nulla in confronto a quello che abbiamo passato la scorsa estate, no? La notte, ricordate della tempesta del 25 luglio. Ricordate, no? Le quattro di notte, tutti svegli a cercare di capire cosa stesse succedendo. Il giorno dopo alberi, ovunque, in mezzo alle strade, linee del tram di Velte. Davvero una cosa impressionante, post-apocalittica. Tutti quanti l'hanno definita così bene. Leggiamo da Repubblica Milano perché, notizia di questi giorni, appunto un ubifraggio a Milano. Dopo sette mesi, nessun rimborso dei danni per la tempesta di vento che ha colpito parchi e scuole. Il maltempo ha provocato perdite per circa 30 milioni di euro, di cui, pensate, 11 e mezzo solo nelle scuole. Palazzo Marino non ha avviato la procedura di sommorgenza necessaria per accedere ai fondi e ha fatto ricorso al TAR, che però gli ha dato ragione contro la regione. Cosa andiamo a spiegare? Allora, cosa è successo? C'è stato il ubifragio. Il Comune ha detto, qui dobbiamo sistemare, andiamo a prendere i soldi. Ha fatto una procedura interna al Comune, che poi è quella che aveva fatto già in altre situazioni ed è quella che le linee guida davano come miglior procedura per andare avanti e riuscire a intervenire tempestivamente per ripristinare le scuole e ha preso i soldi dal suo interno e li ha messi un po' come manutenzione straordinaria e un po' come manutenzione ordinaria. In tutto, una decina di milioni di euro, 11,4 appunto solo per le scuole, pensate, 50 milioni di danni in tutto, quindi comunque un po' di soldi sono stati messi. Poi cosa succede? Lo Stato dà la procedura di emergenza e dice, ok, do i soldi alla Regione e poi la Regione doveva darli ai vari comuni che hanno intervenuto. Qual è il problema? Che la Regione, nella delibera che dà i soldi ai comuni, dice, diamo i soldi a quei comuni che hanno fatto la procedura, è una roba burocratica, la procedura di somma urgenza. Il Comune di Milano non aveva fatto questa procedura perché sentiva giusto fare un altro tipo di procedura. A questo punto, quindi, i soldi non arrivano al Comune di Milano, il Comune di Milano cosa fa? Ricorre al Tar e il Tar dice, ha ragione il Comune. Ha ragione il Comune. Anche se non ha fatto la somma urgenza, non c'è problema, deve poter avere i soldi. O meglio, dice, la delibera del Comune non va bene. Vanno riassegnati, va rivista in modalità di assegnazione e non si capisce perché ci sia questa regola della somma urgenza. Cioè, di base, è questo. E quindi adesso palla di nuovo a Regione Comune perché Regione dice, va bene, il Tar dice così, ma noi faremo ricorso al Tar, cioè il ricorso del ricorso. E quindi, qui, i soldi dovrebbero arrivare, ma non si sa bene quando arriveranno. La storia sarà ancora molto, molto, molto lunga e sicuramente nei prossimi settimane, ma mi sa anche nei prossimi mesi, continueremo a leggere sui giornali da che parte andrà la varie vicissitudine giudiziarie e se mai, o chissà quando, arriveranno i soldi al Comune di Milano. Comunque, si dice che contenta la scavuzzo, comunque, il vice sindaco che dice, abbiamo avuto ragione, abbiamo fatto vedere che è giusto quello che abbiamo fatto. Insomma, leggere manifeste logicità e introduzioni di disparità di trattamento nella sentenza del Tar, insomma, ci dà molta, molta forza ad aver capito che abbiamo fatto la cosa giusta quando, nel 25 luglio, siamo intervenuti in quella maniera. Vedremo, dai, andiamo avanti. Malisarus River, 7 e 31 minuti, bentornati a Good Morning Milano, bentornati sempre sintonizzati su Crystal Radio, 96.2 FM, Dub Plus. Nella vostra autoradio vi ricordo sempre che non sapete, molti di voi, che nella vostra autoradio avete il Dub Plus, che cos'è? È il modo per sentirci nella migliore delle maniere, è l'audio digitale, è il futuro della radiofonia, è quel tastino Mode, Mode, oppure c'è scritto anche radio, lo schiacciate più volte, cambia la sintonizzatore, e viene fuori il Dub Plus. Cercate Crystal Radio con la K, i2L, e ci trovate. 331-78-535-555, numero di WhatsApp, ci state scrivendo, ho arrivato un altro WhatsApp, buongiorno da quella di Bergamo, buongiorno, qui piove, fa freddo, c'è umidità e do il raffreddore. A parte le cose belle, bellissime, devo dire, anche lì da voi i mezzi pubblici con la pioggia diventano strumenti di tortura legalizzati? Eh, abbastanza. Ieri, in autobus, una persona ha cercato di salire con l'ombrello aperto e si ostinava a non volerlo chiudere, quello non credo che sia dovuto all'autobus o cosa, insomma, c'è la gente particolare, abbastanza così, diciamo, artistica, oserei dire, per usare un eufemismo, c'è un po' dappertutto, sì, no, credo che davvero utilizzare i mezzi, soprattutto quelli di superficie, come la 90-91, la 90-91 in queste ore deve essere un girone dantesco, altro che ombrelli che non si chiudono, cose del genere, e comunque sì, devo dire che salire su un autobus con l'ombrello aperto, però, deve essere una bella impresa, cioè, se ce l'ha fatti, gli darei un premio solo per esserci riuscito, a parte aver magari rischiato di accecare gente intorno a sé e comunque poi grondare d'acqua, devo dire che non ha senso questa cosa e non ha così tanto senso che quasi quasi mi piace, mi viene da dire, comunque la giornata è così, la giornata è così, il meteo di oggi, vi abbiamo detto, è molto ballerino, ma abbastanza legato ai rovesci che appunto stanno cadendo ancora sulla nostra regione e sulla nostra città, dovrebbe migliorare un pochino nelle prossime ore o meglio nei prossimi giorni, però, ancora non si è ben capito se, oggi piove, cioè oggi comunque piove sicuramente, anzi, c'è ancora in atto un allarme meteo giallo che rimarrà comunque attivo per tutto il giorno, potrebbe uscire un pochino di sole nel pomeriggio, ma poi dovrebbe ritornare a, cioè di sole, mio Dio adesso è un parolone, dire di sole, comunque un pochino dovrebbe rasserenarsi nel pomeriggio, ma potrebbe rischiare di nuovo di tornare il brutto tempo e soprattutto domani iniziare la giornata benino, ma poi finire di nuovo con la pioggia, che quindi vedrebbe la giornata metà di oggi, metà di domani, la seconda metà di giornata di oggi, la prima metà di giornata di domani un po' più rasserenata, ma poi venerdì dovrebbe ritornare la pioggia, anche se poi, e questo è da meteo in questo momento che sto guardando in diretta con voi, sabato e domenica abbiamo pioggia, nuvolo e sole tutto insieme, hanno capito cosa succederà, succede di tutto, c'è tra prendersi percentuale alta di possibilità di pioggia, ma c'è anche il sole, ma c'è anche le nuvole, non ho capito cosa succederà, quindi devo dire alzo le mani, in questo caso alto là al meteo, miseramente, mi verrebbe da dire, però insomma, io vi consiglio di portarvi sempre l'ombrello a dietro, magari non mentre salite sull'autobus, ecco quello ve lo sconsiglio fortemente, che siate a Milano, Bergamo o in qualsiasi altra città della Lombardia in cui potete ascoltare Good Morning Milano tutte le mattine dalle 7 alle 9 grazie appunto alla Dub Plus, ma anche, se ovunque voi siate nel mondo, grazie alla app di Crystal Radio. Total, Total, come Total è stata la bocciatura che è arrivata ai ragazzi e le ragazze che si sono presentate al pre-esame di microbiologia dell'Università San Raffaele con il professor Burioni, ebbene sì, andiamo a leggere da Repubblica Milano, Burioni boccia 398 studenti su 408 all'esame, in realtà è un pre-esame di microbiologia del San Raffaele e aggiunge poi, dopo le polemiche che entriamo a leggere, lui risponde dicendo il 44% di loro, o meglio di voi, perché parlo direttamente di studenti, non sapeva diagnosticare un'influenza. Ebbene sì, scoppia il caso dopo la denuncia di una studentessa su TikTok, dice bocciato anche chi di solito prende 30 elode, la prova consisteva in 10 domande a risposta multipla a cui risponde in 15 minuti. Era un pre-esame, cioè tu superi il pre-esame e poi, anzi chiedo conferma a chi in questo momento è in regia che sta facendo l'università, tu fai il pre-esame e poi dopo accedi all'esame, perché diciamo è una preparazione, cioè se riesci a fare il pre-esame, ok, puoi fare l'esame, che in teoria sarà molto più difficile il pre-esame, mi auguro, cioè nel senso non capisco, comunque si sono presentati in 408, così dice la Repubblica, ma lo hanno superato solo in 10. Chi sono? Sono gli studenti di medicina dell'Università San Raffaele che si sono cimentati nel pretest, ecco non il pre-esame, pretest si chiama, pretest dell'esame di microbiologia di Roberto Brioni, un'ecatombe, pensate, perché calcolatrice alla mano, solo il 2,45% dei studenti ha passato in denne alla pre-selezione, appunto solo 10 su 408, qualcuno di loro però ha storto il naso, a un certo punto ha anche espresso il proprio disappunto su TikTok con un messaggio che, vabbè, ve lo leggo, poi giudicate voi, lascio a voi il giudizio, non è normale che vengano bocciate così tante persone, è importante parlarne perché non credo sia giusto, non hanno passato l'esame anche persone che prendono sempre 30 o 30 lode, quindi non credo che non abbiano studiato, così dice, vabbè, è vero, si prende 30 lode, però, insomma, Brioni risponde anche lui e dice, pensate che il 17% dei partecipanti a questo appello ignorava l'agente eziologico, Brioni sono tra quelli, non ho la minima idea di cosa sia, ma infatti non lo faccio neanche il pretesto, e l'agente eziologico della scarlattina, non so che cosa sia, comunque, e che il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza, però dice anche che dice, non è un problema, dice, guardate che non è un problema, si può rifare, voi avete visto che non avete le competenze per superare questo pretesto, al prossimo lo farete, avete capito quali sono le cose che chiedo, quali sono le cose che voglio che voi sappiate, perfetto, studiate e vedrete che passerete l'esame, ricorda che anche anche Burioni ricorda che quando fu giovane anche lui fu bocciato a un esame di medicina che non riuscì a passare subito al primo colpo e che lui studiò e lo passò tranquillamente al secondo colpo, ecco, il problema forse qui non è tanto quello è quanta pressione si c'è addosso a questi ragazzi e a queste ragazze che devono per forza fare università nei tempi prestabiliti velocemente cercare di fare tutto, superare o passare, non superare o non passare un pretesto e quindi slittare a una sessione dopo sembra la cosa peggiore che possa succedere al mondo forse in questo dovremmo essere noi, famiglie, a casa a far capire che se anche ci metti un po' di più se anche ci metti un anno in più non c'è problema l'importante è che tu la faccia e la faccia bene l'importante non è il voto ma l'importante è quello che ti porti a casa cioè la conoscenza soprattutto se poi vuoi diventare un medico 744 minuti Crystal Radio good morning Milano come state? come va? tutto bene? 331-78-53-555 whatsapp foto, video quello che volete potete iscriverci noi siamo qua ad aspettarvi le colonne di Repubblica leggiamo tentativo di occupazione al liceo classico Manzoni sarebbe la quarta scuola milanese a mobilitarsi tra pensi ricordate Manzoni che per la prima volta la sua storia occupò l'anno scorso quindi ci hanno preso gusto adesso sia ad aprile del 2023 avevano occupato per la prima volta invece adesso tornano ancora o meglio è un tentativo o meglio stanno facendo credo che in queste ore proprio in questi minuti anzi si stia svolgendo la situazione poi andremo magari ad aggiornarvela domani perché gli studenti dell'istituto di Via Orazio non hanno ancora spiegato le motivazioni della protesta ma avrebbero preso il controllo del piano terra dell'edificio tra parentesi questa notizia è di ieri pomeriggio ieri pomeriggio sì quindi ancora non ci sono aggiornamenti ma hanno cercato aggiornamenti in rete in questo momento non c'è ancora nulla ma a breve arriveranno sicuramente gli aggiornamenti sta di fatto che i ragazzi non hanno ancora appunto spiegato pubblicamente quali siano le motivazioni della protesta hanno occupato ieri pomeriggio almeno gli spazi a piano terra della scuola anche se le lezioni non avrebbero però subito ritardi o cose del genere io credo che troverai in desiderio alle due e mezza fossero finite le lezioni comunque di certo comunque ci saranno poi il collegio docente il consiglio di istituto straordinario riconvocati appunto per ieri pomeriggio e da lì si capirà cioè si è capito un po' che la situazione è ancora in divenire stanno dando notizie frammentarie in questo momento e seguiremo la situazione un punto per il momento è un tentativo di occupazione non ci sono ancora nuovi stiamo guardando proprio in questo momento sulle varie agenzie se per caso è arrivata qualche notizia ma al momento non ci sono aggiornamenti se qualcuno per caso è da quelle parti e vuole dare un'occhiata ci vuole far sapere noi siamo siamo pronti cioè nel senso volendo vi aggiorniamo ci colleghiamo anche in diretta con voi se c'è bisogno al momento non c'è nessun aggiornamento su questa notizia comunque vabbè ti riteniamo sotto controllo sta di fatto che molto probabilmente così mi viene a dire c'è qualcosa che non ci stiamo accorgendo che sta succedendo nella scuola e nelle scuole pubbliche perché questi dicei Severi Corventi e poi anche il Virgilio e anche il Beccaria e in questo caso poi il Manzoni appunto quattro licei che occupano insieme in quattro giorni diversi tra parentesi anche un paio di scioperi almoreschi e una tentata occupazione all'artistico Boccioni di qualche giorno fa insomma la protesta dei studenti sta salendo non si capisce bene le cause o meglio non è così semplice capirle credo che tutto quanto sia riconducibile comunque a un generale mi viene a dire malessere che sta serpeggiando tra la generazione che in questo momento appunto occupa e vive le scuole milanesi soprattutto quelle diciamo quelle di secondo grado magari le scuole superiori diciamo ecco insomma c'è qualcosa che non ci stiamo accorgendo che sta succedendo e forse è il nostro dovere di giornalisti il nostro dovere di adulti il nostro dovere di cittadini milanesi cercare di capire dove sia il malessere e cos'è questo malessere non è l'ennesimo sciopero tanto per fare e non è l'ennesima voglia di non fare lezioni è qualcosa di diverso ed è qualcosa che sta montando lentamente piano piano dal basso soprattutto appunto in queste giovanissime generazioni Gianluca Grignani falco a metà ebbè quindi non si riesce a non cantarla tutti insieme anche qui devo dire in studio abbiamo intonato i cori come fossimo a un concerto appunto di Gianluca Grignani ebbè sempre grande grande musica alle 7 e 53 minuti qui su Crystal Radio adesso noi ci fermiamo per una piccolissima pausa la nostra pausa con il giornale radio e qualche consiglio per gli acquisti ma appunto soprattutto il giornale radio le notizie dall'Italia anche e dall'estero così che sappiate tutto sempre aggiornati in tempo reale qui su Crystal Radio e poi dopo torniamo con ancora tanta bella musica e anche con i nostri ospiti mattinata piena di ospiti quella di oggi mercoledì 28 febbraio subito dopo appunto il giornale radio qui in diretta su Crystal Radio con una puntata di Good Morning Milano 331 78 53 555 tenete caldo il whatsapp scriveteci e raccontateci un po' appunto cosa state facendo questa mattina a fra poco quindi piccola pausa e torniamo da voi adesso il giornale radio ma prima di tutto Darje and Amico con Onda Alta ed erano i Rolling Stone Satisfaction alle 8.07 era il Crystal History delle ore 8 e siamo di nuovo qui in diretta siamo in diretta anche con le nostre ospiti Federica Valcauda e Raffaella Stacciarini buongiorno ragazze buongiorno buongiorno a te buongiorno allora perché siamo collegati con voi perché di questi giorni è una interessante protesta che è stata fatta davanti al CPR di Milano ma più in generale proprio il tema del CPR finalmente mi viene da dire incomincia a farsi sentire anche nelle varie aule sulle varie istituzioni insomma finalmente se ne parla ma voglio lasciare la parola a voi allora con l'associazione Radicale Milano Enzo Tortora avete appunto fatto delle operazioni interessanti per portare finalmente la causa della chiusura dei CPR a tutti quanti lascio però la parola a voi chi mi vuole raccontare cosa è successo io direi che può partire Raffaella allora parto io che c'ero domenica mattina e domenica mattina siamo andati davanti al CPR di Via Corelli a Milano il centro di permanenza per il rimpatrio milanese in cui dovrebbero transitare i migranti in attesa di essere espulsi verso il proprio paese di origine questo sappiamo benissimo avvenire solo nella metà dei casi e nel frattempo queste persone scontano una pena immeritata perché ricordo che non hanno commesso a correato se non quello di non possedere i documenti validi per restare sul territorio italiano e il CPR di Via Corelli è noto purtroppo alle croniche milanesi non solo per essere più che un centro di permanenza un lager un buco nero dei diritti non siamo riusciti ad entrare perché nei CPR spesso non si riesce ad entrare e questo è un altro problema ma siamo andati lì davanti abbiamo replicato una protesta che due detenuti fa il 10 febbraio scorso hanno messo in campo all'interno delle mura del CPR e cioè si sono spogliati si sono denudati sono rimasti in mutande al freddo sotto la pioggia per ore chiedendo di essere e il 10 febbraio faceva molto freddo al contrario di domenica che le temperature erano un pochettino più umiti per fortuna e si sono denudati per ore sotto la pioggia per chiedere di essere ascoltati perché queste persone vengono trattenute in questa struttura e sostanzialmente la loro vita detentiva non riescono a far pranzo o a far cena perché il cibo è avariato il cibo arriva nella struttura già avariato non c'è assistenza psicologica l'assistenza sanitaria è latita perché il personale è ridotto rispetto a quello che dovrebbe essere insomma quella che è una pena già immeritata diventa sostanzialmente una vera e propria tortura quindi noi siamo stati davanti al CPR ci siamo spogliati in segno di solidarietà con noi c'erano anche due consiglieri comunali Daniele Naum e Tommaso Porini di PD Europa Verde e c'era anche il consigliere regionale Paolo Romano del PD che si è spogliato insieme a noi in sei siamo rimasti per mezz'ora davanti all'ingresso e insomma poi avete visto sui giornali che c'è stato un po' di acomediatica purtroppo e per fortuna perché in questi casi si fa fatica spesso a parlarne e continueremo a presidiare il tema chiedendone sostanzialmente la chiusura alle autorità competenti qualcosa invece si sta muovendo appunto almeno l'opinione pubblica sta cominciando a capire che veramente esiste un luogo assurdo io lo definisco sempre così proprio all'interno della nostra città ma ricordiamo bene però che il il CPR di Viacorelli non è un carcere non è diventa quasi un lager ma non è quella roba lì e le persone che sono dentro non hanno commesso nessun reato penale hanno commesso un illecito amministrativo giusto come funziona chi entra nei CPR allora nei CPR sostanzialmente ci entrano le persone senza permesso di soggiorno il cui permesso di soggiorno è scaduto quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante l'accompagnamento alla frontiera quindi il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo necessario a svolgere insomma la procedura del rimpatio per legge lo straniero la persona straniera dovrebbe rimanere un massimo di 18 mesi all'interno delle mura fatto sta che meno del 50% delle persone che transitano e negli ultimi nella fascia temporale tra il 18 e il 21 sono transitate nei CPR italiani oltre 20.000 persone la metà delle persone che transitano in questi centri poi effettivamente riesce a tornare riesce a essere rimpatriata nel paese d'origine quindi sostanzialmente una detenzione amministrativa che lede i diritti umani perché le persone vengono bloccate in un centro chiuso insieme ad altre persone in condizioni disumane e chiaramente noi ne chiediamo la chiusura ma il problema alla base è proprio la legge sull'immigrazione Federica chiedo a te invece una delle cose che sempre ci sconvolge è il silenzio che c'è però intorno a questi luoghi voi avete un po' rotto questo silenzio per fortuna allora sì è un silenzio che è abbastanza naturale da un certo punto di vista mi viene da dire perché purtroppo alle persone importa poco degli altri passatemi questo termine io me ne sono accorta infatti ci tengo molto a parlare di questo me ne sono accorta domenica abbiamo avuto un'ecomediatica siamo usciti su molte pagine anche instagram e allora mi sono presa un attimo di tempo per andare a leggere i commenti in particolare su alcune pagine instagram ecco al di là dei soliti noti bot quindi insomma persone che non hanno immagine profilo hanno nomi strani e commenta e fanno dei commenti oserei dire aberranti ci sono anche insomma persone con nome cognome e il loro volto che scrivono cose come fate schifo questo ovviamente è rivolto a noi io non c'ero quindi ai compagni che erano sdraiati fuori dal cpr cose del tipo andate a lavorare ma non avete di meglio da fare con tutti i problemi che ci sono in Italia portateli a casa vostra che ormai sappiamo essere un late motive è un must have sì un best seller esatto il best seller quindi commenti di questo tipo poi non vado oltre perché ci sono commenti anche più pesanti no cioè che arrivano fino all'insulto quindi credo che alle persone importi davvero poco io poi mi sono messa a commentare e ad esempio a chi ci scriveva andate a lavorare ricordavo che era domenica alcune persone lavorano ma almeno in Italia in teoria è il giorno del signore quindi ci teniamo molto a stare con gli ultimi almeno nel giorno del signore e nella prima settimana nella prima domenica di Quaresima anche infatti quindi il livello del dibattito che si tiene su questi centri e in generale sul tema dell'immigrazione è questo e non è solo un livello che noi vediamo sui social network dove tutti possono scrivere e purtroppo dare libero sfogo ora io mi prenderò anche il tempo per cercare di capire se alcune persone sono denunciabili nel senso che credo che anche a livello di social network ci debba essere un limite il problema è quando questo tenore di commenti e di argomentazioni arriva in prima serata sulle televisioni nazionali perché quando vediamo i dibattiti sull'immigrazione nei talk show serali a me sembra proprio che questo il tenore è sempre quello alla fine poi il tenore rimane sempre quello il tenore dei commenti quindi non si riesce andare in profondità le cose che diceva Raffaella a livello cioè è un tema estremamente complesso anche a livello tecnico non è un tema facile quindi in quelli che sono i temi complessi molto presto le persone ma anche i decisori pubblici tendono più a fare propaganda rispetto al cercare di spiegare con parole semplici quelli che sono i problemi complessi se ci sono dei rallentamenti nelle espulsioni così come ci sono dei rallentamenti nel dare la cittadinanza a chi dovrebbe avere la cittadinanza cioè esistono questi due ordini di problemi contrapposti è evidente che noi dobbiamo porci nell'ottica di gestire il problema e il fenomeno migratorio e non di mettere la polvere sotto la sabbia come si fa utilizzando la propaganda perché poi tutto ciò va sulla pelle delle persone e fortunatamente noi siamo abituati a non fare differenze una persona africana cinese italiana ecco non è nostra consuetudine giustamente quello che però capisco che il tema è veramente complicato ma non è così complicato capire che i diritti di queste persone siano sistematicamente violate all'interno di situazioni e strutture del genere non solo a Milano ma praticamente nella totalità dei CPR che ci sono sul territorio nazionale su questo com'è possibile davvero che nel 2024 ci sono ancora luoghi del genere dove praticamente si è lasciati trappi non ci sono delle leggi che lo definiscono sono solo dei regolamenti che definiscono come vivere all'interno del CPR e abbiamo visto situazioni davvero da lager Raffaella hai il microfono chiuso Raffaella Scusa Scusatemi sostanzialmente hai perfettamente ragione il sistema di integrazione che fa capo ai CPR fa capo a dei regolamenti non a una legislazione vera e propria e l'indice di questa cosa ti fa capire che tra l'altro sul sito del ministero dell'interno nel CPR di via Correlli nemmeno compare in Italia sono 10 uno di questi 10 è quello di via Correlli ma non c'è nemmeno nel sito del ministero dell'interno è stato commissariato a dicembre da dicembre a oggi la situazione non è cambiata anzi è rimasta stabile se non peggiorata quindi questo sistema di privatizzazione della gestione perché poi ricordiamo che i CPR non sono gestiti direttamente dallo Stato ma vengono appaltati a società e a cooperative esterne tra l'altro costano anche una marea di soldi e anche quei soldi probabilmente finiscono in dei circuiti che poi non sono efficaci perché se il cibo arriva variato se non si riesce a pagare il personale se c'è una non esistono mediatori culturali all'interno dei CPR tale per cui si riescono a dirimere quelle che sono anche le differenze culturali all'interno perché ricordiamo che un migrante che arriva dalla Sierra Leone ha delle esigenze diverse da un migrante magari che arriva dal Uganda o dal Kenya ad esempio molto banalmente anche la lingua mancando anche i traduttori è facile capire come la mancanza di comunicazione poi si riversa in una serie di problematiche che spociano in tensione a volte in maltrattamenti reciproci a volte in maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine quindi è una situazione a cui bisogna mettere mano e noi stiamo cercando di elaborare una proposta da rivolgere all'istituzione insieme alla nostra avvocata Giulia Crivellini al nostro tesoriere Marco Ferrario perché cercando di coinvolgere altre associazioni che da sempre si occupano del tema come la rete non ACPR perché è arrivato il momento anzi è il momento già da un pezzo ma non si può più aspettare per chiudere queste strutture che sono patogene e mortifere e poi ricordiamo anche che appunto quello della comunicazione interno e esterno spesso l'interno non solo con i familiari che appunto si vedono scomparire da un giorno con l'altro magari qualcuno e scoprono dopo settimane che questa persona è all'interno di un CPR è anche un problema ad esempio con la relazione tra gli assistiti e gli avvocati che hanno difficoltà a parlare con chi è all'interno dei CPR sì assolutamente la comunicazione tra fuori e dentro è estremamente complessa estremamente farraginosa non solo tra familiari e trattenuti ma spesso anche tra istituzioni che dovrebbero avere il diritto di entrare e invece questo diritto non possono esercitarlo per fortuna abbiamo appreso che ieri il consigliere regionale Paolo Romano è riuscito ad entrare ed è riuscito a vedere con i suoi occhi e con gli occhi dei suoi collaboratori che la situazione è rimasta sostanzialmente immutata quindi questo commissariamento questa indagine della procura sulla ditta che è in gestione il CPR di Via Corelli per il momento non dà frutti positivi quindi noi continuiamo cominciamo e continuiamo ad appellarci alle autorità perché non possono continuare a chiudere gli occhi davanti a una situazione che è inaccettabile Volevo solo scusa Fabio voglio aggiungere che l'ente si chiama Martinina Martinina SRL che è l'ente gestore appunto sotto indagine dalla procura e l'indagine è partita perché loro avrebbero promesso servizi non erogati quindi significa che i fondi sono arrivati però poi di fatto sono spariti che non sono stati utilizzati per i servizi promessi attualmente questa società però non sta gestendo il CPR perché è stata commissariata giusta o è comunque in gestione in questo momento no attualmente è stato commissariato quindi c'è un commissario c'è un commissario non è più in mano alla società però il problema resta negli altri CPR perché la privatizzazione della gestione in questo caso fa sì che comunque da quella gestione qualcuno possa trarne profitto quindi è inevitabile che si crei una situazione di questo tipo chiarissimo io davvero vi ringrazio tantissimo per quello che state facendo per appunto aprire il silenzio squarciare il velo di silenzio che c'è intorno a questo tema tema che da sempre noi qui a Godmone Milano abbiamo cercato di portare avanti e che appunto ogni qualvolta si può cerchiamo di ricordarlo perché troviamo veramente vergognoso che esistano luoghi del genere sul nostro suolo milanese in realtà poi in generale nel mondo mi viene da dire però insomma in questo caso troviamo anche assurdo il silenzio che spesso e volentieri anche le istituzioni milanese hanno intorno a questo chiediamo sempre appunto che magari il sindaco Salah dica qualcosa sappiamo che non può in teoria non può chiuderlo lui però sappiamo che in altri comuni qualcosa è stato fatto quindi insomma ci appelliamo anche a lui grazie mille Raffaella grazie mille Federica teneteci aggiornati sulle prossime iniziative comunque senz'altro e speriamo di darti finalmente notizie positive a breve e lo speriamo tanto grazie mille grazie mille Fabio grazie mille anche a voi buona giornata noi ci risentiamo quindi anche qui in diretta fra pochissimo ovviamente non potevamo che mettere una canzone che un pochino richiama quel sentore di voglia di giustizia soprattutto intorno alla tema dell'immigrazione non potevamo quindi che non ascoltarci qui in diretta su Cristian Radio alle 8 e 24 minuti clandestino Manu Ciao Vasco Rossi con stupendo alle 8 e 34 minuti Cristian Radio Good Morning Milano sempre qui in diretta alle 8 e 34 minuti 331 7853555 il nostro numero di Whatsapp vi aspettiamo qui in diretta con i vostri commenti dei vostri racconti su quello che state facendo in questa giornata o sui commenti e le notizie che vi stiamo dando nei giorni scorsi vi abbiamo dato questa notizia e ve ne sarete anche accorti se avete girato il giorno di San Valentino per la città di Milano avete trovato delle statue le statue più famose della città di Milano coperte proprio con una coperta addosso e era un'operazione molto interessante che nasce dalla fondazione Progetto H per capirne meglio abbiamo in collegamento con noi Alberto Sinigaglia che è il presidente della fondazione Progetto H buongiorno presidente buongiorno buongiorno grazie dell'invito allora grazie a voi per questa bellissima iniziativa che insomma ci ha fatto riflettere subito appena l'abbiamo vista abbiamo detto cosa sta succedendo spiegatecelo bene e c'erano anche cartelli e volontari di Progetto H che spiegavano la situazione ma io questa volta la voglio lasciare a lei che cosa avete voluto fare che cosa avete voluto su che tema avete voluto sensibilizzare appunto con questa operazione del 14 febbraio coprendo le statue della nostra città con una coperta sì il fondazione Progetto H da 30 anni si occupa delle persone senza dimora i cosiddetti invisibili abbiamo proprio voluto lanciare questa provocazione dicendo copriamo le persone più importanti della città coprendo ovviamente i cittadini illustri le statue dei cittadini illustri ma ovviamente rimandando alla nostra mission che sono le persone senza dimora persone cosiddetti invisibili ma infatti invisibili non lo sono perché dormono e vivono in strada tutto il giorno per cui proprio il pensiero è quello di volgere lo sguardo a loro tante volte sappiamo che vedere la povertà vedere le persone state di bisogno non è non è per noi bello e abituale però insomma in quella giornata abbiamo proprio voluto dedicare a loro un'attenzione l'attenzione l'avete dedicata anche con il titolo diciamo di questa iniziativa che è stato molto interessante che era copriamo le persone più importanti della città un gioco di parole che in realtà però faceva capire come appunto una volta ci occupiamo più quasi delle statue che abbiamo in città che mi raccomando teniamole bene e tutto quanto e poi ci dimentichiamo invece di quelli che appunto lei chiama invisibili che poi invisibili non sono Progetto H fa tanto appunto su questo tema ricordiamo un po' anche dei numeri che appunto fa Fondazione Progetto H sul Comune di Milano abbiamo unità di strade tutte le sere distribuiamo sacchi a pelle coperte veramente migliaia all'anno abbiamo pasta abbiamo una cucina mobile che gira sia di giorno che di notte distribuendo pasti caldi dove le persone stazionano è un food truck che gira per Milano dando anche colazioni insomma soprattutto nei periodi freddi zuppe caffè tutto quello che può essere utile a loro è nato durante la pandemia proprio per quando hanno chiuso le mese pericore proprio per andare incontro abbiamo distribuiamo 3 milioni e mezzo di pasti all'anno nei nostri centri in strada abbiamo più di 1300 persone che tutte le notti dormono nelle nostre case solo a Milano abbiamo 130 case e una decina di centri di accoglienza insomma tante cose pacchi viveri social market social market sono questi supermercati gratuiti per le persone in povertà che vengono a fare la spesa ecco è interessante avete anche un numero di telefono se non sbaglio voi che attiva 24 ore su 24 dove si possono segnalare situazioni che magari si vedono e che possono essere necessarie di un intervento lo dico io poi mi dica lei come funziona e a cosa serve lo 0288447646 giusto? sì questa è una centrale operativa del comune di Milano che poi ci segnala attraverso il nostro operatore H24 abbiamo un centro dedicato con 25 posti letto soprattutto per le mani e bambino che incontriamo con la unità distratta di notte vengono ospitate durante la notte poi il giorno dopo vengono portate in via San Martini 120 dove c'è il centro ascolto del comune di Milano centro San Martini e lì poi vengono indirizzate nei servizi più idonei oltre a fare questo appunto che magari segnalare situazioni di disagio che vediamo che magari si possono intervenire poi appunto comune o progetto Arca cosa può fare il cittadino invece per dare una mano a fondazione progetto Arca? La cosa più semplice è andare sul sito sul sito si trova la pagina del montariato abbiamo il servizio civile abbiamo la possibilità di fare donazione ci sono poi tante possibilità anche sulle azioni di volontariato possono essere le aziende che vengono fanno il volontariato aziendale o il singolo cittadino che può fare di tutto dall'unità di strada alla mensa ai parchi di iveri ci sono tantissime attività che si possono fare Quanti quanti volontari avete? Per far capire l'importanza del volontariato all'interno della vostra struttura? Sì abbiamo 500 volontari solo a Milano che si attivano veramente senza i volontari Fondazione Progetto Arca potrebbe fare pochissimi volontari sono una forza intredibile anche perché l'empatia che riesce a dare un volontario alle persone che incontriamo in strada è impagabile perché è veramente una grande vicinanza chi è che può fare volontariato per Fondazione Progetto Arca chi è l'identikit del volontario qual è? Abbiamo veramente di tutto dal docente universitario all'autista che ci dà una mano facendo i trasporti al pensionato veramente può essere di tutto anche perché veramente i servizi il ventaglio dei servizi che abbiamo è molto ampio Perfetto Presidente allora io la ringrazio tantissimo per il suo intervento ricordiamo appunto che c'è un sito internet in cui si possono avere tutte le informazioni e anche appunto nel caso candidarsi a diventare volontario puoi ricordarci il sito? www.progettoarta.org Poi c'è anche il 5x1000 che è un'azione veramente molto semplice che non costa che è per noi molto molto utile perché supporta molti dei nostri servizi Chiarissimo e allora io la ringrazio davvero la ringrazio Presidente per questa sua incursione nella nostra trasmissione per averci raccontato bene cosa è successo il 14 febbraio che è appunto solo magari un momento per anche conoscere meglio la vostra fondazione nel vostro progetto e appunto magari anche diventare dare una mano che insomma non guasta grazie mille Presidente grazie grazie mille a voi e allora buona giornata ad Alberto Sinigaglia Presidente della fondazione Progetto Arca noi andiamo avanti con la musica abbiamo parlato degli invisibili degli ultimi abbiamo parlato anche di migrazione questa mattina non potevamo quindi che andare avanti con la canzone che miglio forse definisce tutto questo mondo in queste settimane arriva direttamente da Sanremo ma lui invece arriva direttamente da Baggio stiamo parlando di Gali con Casa Mia Gali Casa Mia alle 8 e 46 minuti quasi in conclusione di trasmissione andiamo ancora a leggere dal Corriere della Sera Milano invece una notizia che parte da un dato abbastanza non carino sarei dire per usare un eufemismo anzi per essere gentile vi spiego perché milanesi stressati nervosi aggressivi insomma non mi sembra proprio il massimo per iniziare una notizia ma ecco le associazioni e i club pronti alla rivoluzione gentile tra garbo e senso civico ebbene sì dall'associazione Gentlitude al Festival Soul della Diocese di Milano dal club degli uomini gentili alle iniziative del comune che si impegna per liberare la città da arroganza e maleducazione dateci una lettura è interessantissimo è una cosa davvero davvero interessante pensate che l'associazione Gentlitude ha compiuto 14 anni è un movimento per la gentilezza nato nel 2010 e attivo nei circuiti internazionali spiega che cosa fanno ci vuole un mondo molto alto quasi filosofico quello che loro cercano ma in realtà è quella filosofia che dovrebbe essere applicata alla vita quotidiana per poter essere vissuta in maniera migliore gli obiettivi sono ad esempio per un mondo purificato dall'aggressività dall'arroganza e dalla maleducazione e vi assicuro che detto così lo so fa ridere vi viene voglia di prenderli in giro lo so l'ho fatto anche io appena ho letto l'articolo ma pensandoci bene in realtà è quello di cui abbiamo bisogno la famosa rivoluzione gentile sono anni che se ne parla sono anni che si sente c'era anche la rivoluzione della gente per bene c'è stata negli anni negli anni 80 in Germania è quella cosa che noi chiamiamo società civile dovrebbe fare quando si vede che il mondo va un po' a rotoli o va dalla direzione sbagliata lo si può fare a Milano anche grazie ad esempio al club degli uomini gentili ad esempio che è un club fatto dal segretario della CGL milanese Massimo Bonini che invece è alla guida del sindacato dei pensionati SPI e che ha creato questo club questo modello appunto club degli uomini gentili composto al 40% da donne lo dice ci tira a dirlo che riunisce 1500 iscritti e 18.000 follower attorno ai valori come gentilezza bellezza ed eleganza ma poi c'è anche il festival soul della diocese di Milano ad esempio quindi anche la chiesa ambrosiana che da decenni promuove il concetto di amicizia civica e il monsignor Luca Bressan che dice creiamo questo festival della spiritualità soul appunto quindi non è un festival musicale attenzione dal 13 al 17 marzo perché anche la spiritualità ha una sua importanza e infine il consiglio comunale che ha deciso di creare delle linee guida contro il linguaggio d'odio che viene utilizzato sia in città ma a volte anche direttamente anche dai politici che ogni tanto la dicono un po' grossa e quindi rendere la città a 15 minuti anche un po' più lenta perché come si sa rallentando forse anche i nostri pensieri rallenterebbero e forse anche questa ondata di stress ma soprattutto di nevrosi di nervosismo e di aggressività potrebbe scemare insomma noi ce lo auguriamo io penso sempre che sia un buon atto quello di essere gentili lo so c'è quella bruttissima parola che viene utilizzata che è buonismo che non ha proprio senso perché da quando essere buoni è diventato un disvalore e non un valore ecco forse sarebbe meglio se cominciassimo tutti quanti a essere un po' più gentili a capire che chi sta intorno a noi anch'esso magari soffre di una situazione nella città che non è così semplice da vivere dal vivere la città si passa troppo spesso al sopravvivere in città e quindi davvero viva la rivoluzione gentile e viva le associazioni che danno una mano in questo campo grazie 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano come sempre qui in diretta dagli studi di Milano San Siro di Milano News su Crystal Radio e lo sapete potreste dirlo insieme a me in coro dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa la grande musica raccontata dalla preparatissima voce di Ambrogio e tante storie che ruotano intorno alle sette note musicali anteprima invece di domani volete sapere qualcosa domani è teatro lo sapete al giovedì parliamo di teatro con Tamara Malleo ma parleremo anche di creatività e giovani con un progetto molto interessante di fondazione comunità di Milano e quindi anche domani non potete perdere la nostra puntata ma so già che tanto non lo farete perché tutti i giorni siete qui con noi anzi grazie mille per la vostra compagnia voi comunque seguite sempre Crystal Radio anche sui social scaricate la app per ascoltarci ovunque e andate anche sul nostro sito goodmorning.milano.it tutto trovate gli ospiti le telefonate i contributi dei nostri ospiti fissi con le loro rubriche e anche ovviamente le puntate complete le voci sono quelle di Crystal Radio che tutto il giorno vi fa compagnia la voce della mattina è la mia qua di Fabio Ranfi che vi saluta ora alle 8 e 56 minuti ma vi dà appuntamento a domani sempre qui con Good Morning Milano ciao a tutti a domani ciao 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 ciao